Non vi nascondo l'emozione nell'aprire in questo momento questo convegno verso Materia 2019, soprattutto nel vedere chi travi duetto in questo momento è seduto tra il pubblico, ma poi interverrà per portare il proprio contributo ai lavori di questa giornata. Noi ormai è oltre un anno che stiamo lavorando a livello di volontariato, volontariamente rispetto a questa iniziativa, abbiamo sentito veramente tutti i livelli istituzionali, abbiamo incontrato tantissime persone, un lavoro che ormai è diventato praticamente quotidiano, minuto per minuto. Siamo convinti che stiamo facendo un ottimo lavoro e credo che l'organizzazione di questo convegno sia un risultato migliore che potessimo aspettarci. La paura che avevamo era un po' che coglie gli organizzatori di questi eventi e chissà poi la sala si riempie o non si riempie, chi interviene e chi non interviene, quindi non posso che ringraziarvi ancora ulteriormente per la presenza, per aver accettato l'invito, ma soprattutto per il contributo importante che ognuno di voi vorrà portare a quest'iter, a questo viaggio, visto che lo abbiamo chiamato Cadmos alla ricerca d'Europa e poi spiegheremo bene cosa intendiamo, questo viaggio verso la candidatura di Matera a capitale europea della cultura. Grazie a tutti.